Ci troviamo stamattina presso il Pozzo di Petra Nera nel territorio tra Gran Michele e Ligodia, proprio sulla vecchia strada che conduce verso Ligodia Obea, dove si stanno svolgendo i lavori per la sostituzione della pompa, la pompa che permetterà così la fornitura di acqua presso la città e le utenze idriche di Gran Michele. La pompa, così come è garantita dall'amministrazione comunale, dalla ditta appaltatrice che sta realizzando i lavori, potrà essere completata entro un paio d'ore, ma sicuramente affinché tutto il sistema possa entrare a regime passeranno circa un paio di giorni in cui si potranno verificare diversi disservizi. L'amministrazione e l'ufficio tecnico hanno messo a disposizione l'autobotte per tutti i cittadini che ne faranno richiesta per sopperire a queste problematiche. Quindi per i cittadini ancora qualche giorno di sacrifici affinché si possa rientrare all'intero regime e riempire così la rete per sopperire a questi problemi.